Che cagno di cugino? Babbo Natale si sa non conosce ostacoli e così per raggiungere i bambini che in questi giorni di festa sono chiusi in una stanza d'ospedale alla pediatria di Padova, non ha esitato a imbracciare un trattore e salire fino alle soglie del reparto, portando un carico di doni e solidarietà. Dall'azienda agricola Bellucco Farm è partito un Deutz Farm carico di giocattoli per tutti i bambini ricoverati per rallegrare i piccoli pazienti e arricchire di nuovi materiali anche la ludoteca del reparto. Grazie ad un braccio meccanico poi Babbo Natale è riuscito ad arrivare anche ai piani alti per raggiungere i bambini che non possono uscire. Sì sono occasioni queste che portano serenità, quella serenità che insomma è chiaramente limitata per chi soffre ma insomma è un momento importante, un momento di evasione insomma dal percorso di cura e che aiuta ad affrontare il proseguo della cura in maniera diversa. Noi abbiamo cercato di portare un sorriso, un po' di amore, un po' di vicinanza ai bambini ma anche alle famiglie, tante mamme oggi erano rallegrate da questa mattinata di gioia e speriamo di aver contribuito a rendere il loro Natale un po' più sereno, un po' più felice. Ma la solidarietà ha portato anche un assegno di 7 mila euro a favore dell'associazione Salus Pueri per le attività da svolgere presso la pediatria. Oggi il ricavato della generosità delle aziende agricole che hanno donato i loro prodotti, poi lavorati e confezionati dall'associazione Cuochi e dall'associazione Amici, hanno preparato il cibi vendendo questo cibo agli avventori che hanno frequentato la manifestazione, il ricavato di 7 mila euro, oggi è stato donato a Salus Pueri che li investerà in progetti scolastici, in progetti ricreativi rivolti ovviamente ai bambini ricoverati nella pediatria. Una festa rallegrata anche dalla musica grazie al Movie Chorus che ha proposto le colonne sonore più amate dai bambini.